Alessandrini, oggi in conferenza stampa voi manifestate le vostre perplessità sul nuovo progetto di ricostruzione del ferro di cavallo. Perché? Sì, perché sostanzialmente il progetto che ci è stato presentato non risolve nessuno dei problemi presenti oggi. Il ferro di cavallo viene demolito anche perché la sua struttura ha favorito negli anni la costruzione di quelle enclave in cui la malavita, la violenza, lo spaccio, la droga sono state facilitate proprio perché lontane dagli sguardi del resto della città. E si ripropone un progetto che sostanzialmente ha quasi la stessa forma, cioè un'apertura, un piccolo spazio di 20 metri che si apre su Via Tavo sarebbe la grande soluzione che gli architetti nominati dall'Ater o anche i consulenti che vedremo sono stati nominati all'interno di questo gruppo di progettazione prevedono per la nostra città. Il progetto deve essere innanzitutto valutato insieme alla cittadinanza, erano stati promessi percorsi di partecipazione che sono stati completamente negati, il progetto ci avviene calato dall'alto dall'Ater. Vorremmo sapere il ruolo che ha avuto in questa vicenda anche l'architetto Michele Lepore che è presente come delegato del comitato scientifico che non si sa da chi è stato nominato per il controllo e il monitoraggio di questo progetto, ma sappiamo benissimo essere consulente all'interno del comune e insegnante e professore all'interno dell'università. Quindi un architetto uno e trino che sostanzialmente tira le fila di tutti i progetti all'interno della città. Quindi il nostro è un appello accorato e non siamo i soli, abbiamo letto ieri Don Massimiliano, sappiamo anche che tutta la comunità delle associazioni di quartiere ha il nostro stesso dubbio e chiede con fermezza la modifica di questo progetto perché è necessario risolvere il problema. L'abbattimento lo abbiamo sempre voluto, siamo stati i primi a parlarne durante la campagna elettorale delle scorse elezioni amministrative e quindi lo sosteniamo con forza, ma va verificato cosa ricostruire e se ricostruire in quel luogo vista la presenza già di numerosi elementi di case popolari già in costruzione e che quindi prevederanno una presenza mazziccia di persone in quel quartiere. Quindi chiediamo un incontro con l'Ater per verificare la possibilità di modificare questo progetto.